ciao ragazzi giorossi oggi vediamo la differenza tra seconde maggiori e minori e terze maggiori e minori e quindi è un po più difficile dai cominciamo con una bella carrellata di seconde maggiori o minori via e adesso una carrellata di terze maggiori o minori vai bene ora dovreste distinguere tra quattro tipi di intervalli diversi quindi dai via micro test cominciamo vai E adesso la soluzione confrontate, via. Allora, com'è andata? Era un po' più difficilotto questo qua. Tranquilli. Allora, sulla mia pagina Patreon potete trovare moltissimo materiale didattico sulla teoria musicale e sulla armonia. Tranquilli, visitina, qualcosa di bello lo trovate. Buon, per oggi è tutto. Ciao. Buon, per oggi è tutto. Buon, per oggi.